Il Brennero ci aspetta. Al di là di Bressanone comincia a salire la via che supera uno dei barchi più importanti della cerchia alpina. Affrettiamoci a dare un saluto ai castani e alle viti. Fra poco non ci si faranno innanzi che praterie e boschi di pini e sulle cime più eccelse diademi di ghiaccio e neve. La vegetazione non muore del tutto mai. L'allettano questi orizzonti cristallini e fin nella fredda e triste balloncella in cui si trova la stazione del Brennero, il dorso della montagna ci si mostrerà vestito da alberi e morbido d'erbe e stillante da.